Sono 77 i migranti sbarcati nella serata di ieri al porto di Gallipoli, tutti maschi fra cui 21 minori, tutti presumibilmente di nazionalità pakistana. Anche in questo caso, così come è avvenuto nello sbarco di venerdì scorso a Toremozza, sono stati bloccati due presunti scafisti di nazionalità ucraina. A distanza di poche ore dallo sbarco di 81 persone per lo più pakistane, un altro veliero è giunto nel Salento dopo essere stato intercettato a circa 15 mili a ovest di Gallipoli da una motovedetta della Guardia Costiera Locale, una scena simile a quella vissuta nelle acque di Ugento. Una barca a vela colma di migranti, dopo lo sbarco sono state avviate le procedure di identificazione ed effettuati i tamponi per rilevare la presenza di contagiati dal Covid-19, poi il trasferimento al Don Tonino Belo di Otranto. Intanto nelle scorse ore sono arrivati i risultati dei test effettuati sui migranti di venerdì scorso, 63 adulti e 16 minorenni. Tutti sono risultati negativi. La barca a vela rimasta incagliata nelle secche davanti a Toremozza, Marina di Ugento, è stata recuperata dai militari della Guardia Costiera e condotta nel porto di Leuca a disposizione dell'autorità giudiziaria. La riuscita dell'operazione ha anche scongiurato conseguenze dannose per l'habitat marino. Intanto in Salento c'è forte preoccupazione per la gestione del fenomeno migratorio, anche a causa delle condizioni meteomarine favorevoli, si attendono altri sbarchi.